Dal 2021 al 2023 due imprenditori agricoli di Monteroni e Copertino avrebbero assunto fitiziamente quasi mille persone per accedere indebitamente all'indenità di disoccupazione agricola, agli assegni per il nucleo familiare e per la maternità e anche all'indenità di malattia. I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno scoperto oltre 900 falsi braccianti agricoli che avevano richiesto indebitamente appunto provvidenze a sostegno del reddito. Le indagini delle fiamme gialle del gruppo di Lecce e della tenenza di Porto Cesareo hanno permesso di individuare i due imprenditori. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica leccese e hanno preso il via dopo la segnalazione della direzione provinciale dell'Inps. I finanzieri attraverso l'assunzione di informazioni, l'acquisizione di dati presso enti e uffici pubblici e l'analisi documentale hanno smascherato le false dichiarazioni dei datori di lavoro individuando giornate lavorative inesistenti che sarebbero servite solo a giustificare l'indebite erogazione di oltre un milione di euro. A tanto ammontano le somme percepite e per la quasi totalità di esse è già scattato il sequestro preventivo. Gli autori delle frodi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per truffa aggravata ai danni dello Stato.